Ok livello 7 sbloccato io ero molto curioso di capire dove eccolo Trovato è qua sotto come c'è a rivolgirla sotto una domanda così No Devo passarci attraverso è il pianeta azzurro benvenuto nella casa blu aperto diventare tipo qua in mezzo preso preso Sì Sghere A casa dove portare rosso c'è la portale rosso vero ecco portare rosso Ghiaccio anzi caverna di ghiaccio ci sono anche dei diamanti la camera di ghiaccio c'è anche un fossile interessante Perfetto oltre a vari fossili che sono o non sono presenti Volevo capire da dove partire quale fosse il punto mio per partire ma se partiamo qui che vedo un bello spiraio per passare Molto complicata questa è Eccolo ok dove c'è la roba arancione Dove c'è la roba arancione io salgo finché non trovo la roba arancione Una volta trovata la roba arancione sappiamo che lì c'è ciò di cui ci stiamo no 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 brutta roba brutta roba non ce la farò mai non ce la farò mai Provo a cadere provo a cadere lì che fa un po di parkour Non so se ce la farò col parkour se ce la faccio una cosa fighissima dubito Di quasi posso salire non posso salire Il parkour ragazzi purtroppo non ci aiuterà a meno che io non riesca ad arrivare lì con Non ce la farò mai a meno che Oddio forse da qui ce la faccio O forse sì O forse no o forse sì che giro sto facendo ci arrivo ci arrivo Ce la faccio ce la faccio ti dico ce la faccio come ci arrivo la sopra io Dovei saltare la sopra Buona sto cercando di scogitare un metodo Per andare dall'altra non ce la farò mai Quello che ho due cuori quindi se sbaglio un altro salto praticamente sono morto Tutto per un coin ok E mo? E mo niente Mo me lo posso guardare per bene ma non ce la farò mai A meno che no non ce la farò mai A meno che no Però potre no non ho paura di voi cose arancioni strane Arriverò qui E l'ho preso l'ho preso Possiamo tornare a casa Alla grande anche Boom bitch Time travel Figo Viaggio nel tempo interessante Voglio vedere che tipo di viaggio nel tempo mi farà fare C'è della lava Ah si chiama la lava giustamente prendo fuoco Mi sembra giusto mi sembra giusto Allora io direi andiamo senza indugio Io provo ad andare direttamente in cima Per prendere subito il livello Ok ok C'è un palazzo C'è un palazzo Penso aver capito E non ce la farò ad arrivare sul portale Dove è il portale? Qua non c'è di sicuro Devo rifarmi tutto vero? Devo rifarmi tutto Allora se c'è un portale è probabilmente nel punto più alto Quindi sarà lì Devo ammazzarmi Ammazziamoci Quindi partiamo dalla preistoria Poi c'era la roba verde Più o meno Dinosauri Fighi dinosauri Eee Sto rischiamo tantissimo Devo arrivare in cima in cima in cima in cima Vai che ce la fai Vai che ce la fai Vai che ce la fai Non ce l'ho fatta E' solo morto Se siete per di qua Oddio è un po' più ripido Però in realtà è più comodo Perché non ho sbattuto la testa Vai vai Ora ce la faccio sicuro Ce la faccio sicuro Boom E il portale bianco è andato La vera domanda è Sto cacchio di cosa che mom vuole far trovare lui Dove sarà mai? Bella domanda Qua non vedo niente Secondo me potrebbe essere sopra L'opterodattilo Come si chiama? Quel coso lì L'opterodattilo E invece no Sopra l'albero E invece no E lo cacchio sta sto co E se da lì poi passo oltre Non c'è molto altro dove Nascondere il coso Che gli opterodattilo tra l'altro eh Ah ti ho rubato l'occhio C'è un bottone Aspetta Ah ok perché questo è un serpente tipo Pensavo ci fosse qualche tipo di meccanismo nascosto Sovituato alle custom mappa quelle complicate ragazzi cosa avete che vi dica E diciamo che questo bottone C'è questo coso magari Non lo so Questo invece ci sono le ci sono le api Sono api queste E' vero sembrano un po api La testa gli occhi le cose Siamo dentro un albiarchi figata Alveare Che storia Che bello che è Eccala Infatti mi sono appena incastrato Alla grande L'ho visto L'ho visto Devo atterrare Tanto muoio lo stesso Però ho visto il coin Lo si prende raga Lo si prende Ce la si fa Più o meno Tanto muoio Lo so già Muoio E invece ho mezzo cuore Incredibile Però lì sopra non ce le vero comunque E invece lo prendo Incredibile L'ho preso Troppo troppo forte Troppo forte Va bene ragazzi Allora Bisogna stare attenti a questi alveari Perché per lo più sono trappole In realtà Molto trappolose Che non ti consentono Di capire dove cacchio sta andando Veloce veloce Non ci avrò mai in cima Ho sbrottuto la testa troppe volte Però questo è molto complicato E ho capito Io dove cacchio devo andare ora L'api in cima non ci avrò mai E infatti non ci sono arrivato E infatti sono morto Alla grande Sono morto 40.000 volte Ok 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 Vai Gira 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 Che ce la fai Gira gira vai di là vai di là vai di là vai di là Ok Bravo 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 ok Ok ce l'ho fatta Ce la facciamo Guarda quanto lo dico ce la facciamo Questa è vinta Ho preso anche il coin Siamo tutti contenti e felici No ho fatto la cagata Ho fatto la cagata È complicato ragazzi Più complicato di quel che sembra Troppo complicato Troppo E vabbè qua sono morto da una cifra Qua c'è Non c'è il buco Non c'è il buco Non c'è il buco Non c'è il buco Dobbiamo andare di qua a sto punto Scusa E vai Sì 6.000 anni ci vuole Oh non riesco a trovare la strada decente Incredibile Ok E E E E 시간이 E Si è che è arrivato prima? Ok Ok Vai 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 ci siamo 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 Nella sento me la sento ci siamo ci siamo ce la posso fare se la posso fare attento Attento boom e sghele E lì come ci arrivo col parkour de livello 10 sbloccato giardino della fantasia non sembra male Vediamo questo è livello numero 10 E io direi semplicemente iniziamo a salire che qua vedo davvero troppo di è difficilissimo questo Guarda te lo dico questo è il più difficile che c'è E' il più difficile che c'è e stavo cercando io il coin perché è l'unica cosa che aveva senso cercare in questa partita Che sto facendo guarda sono arrivato anche qua in cima se trovo il coin sono contento Quanto è lungo sto corso ragno incredibile No questo è difficilissimo Io posso andare anche a fare un po di parkour ma qua non va da nessuna parte devo solo provare vedere se l'ho passato il coin e non l'ho visto Perché in quel caso poi posso andare spedito verso la meta Però io non vedo niente quindi andiamo avanti Allora provo a andare in questo angolino qui perché vedo che c'è un bello spiraglio devo evitare tutta la merda che c'è la vero dell'azzurro Vai ma quanto è alto sto corso raga ok Ok al cosetto ci dovrei arrivare boom ah e qua c'era anche il coso potevi dirlo prima lo stavo cercando boom Ho completato tutti i livelli perfetto E il livello bonus si sbloccherà solo dopo aver trovato gli ultimi coin mi manca il livello 8 che è il time travel mi manca cos'altro Il livello 8 E il livello 3 a facciamo la giunga molto velocemente troviamo sto coin che dite o almeno proviamoci raga io non lo vedo non lo vedo sto coin Non lo vedo Porca vacca E la c'era il pappagallo E qua solo dove ero prima Dov'è sto coso? Ok C'è quello è il pappagallo Vuol dire che è per forza su questo livello Allora qua in cima non c'è E per forza prima di quel punto Ho trovato 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 l'albero magico l'albero magico mi sa che era lì Boom baby Andiamo a casa è ora di fare l'ultimo livello numero 8 dove manca il coin Allora numero 8 L'ultimo che manca è il time travel e il time travel non era molto facile mi ricordo perché c'è troppa roba all'interno E se fosse tipo qui o se fosse tipo là dentro Non ce la farò mai a fare un salto decente Però se riesco a morire guardando di là ok non c'è una porta Dove cosa mi viene in mente è un passaggio sotto la lava ma Cioè sarei proprio da Cioè non stronzi di più Ok ora sono arrivato al livello base se c'è un coin qui dovrei vederlo Però vedo solo porte Sono porte accessi No dai non posso più Posso uscire da qui? Devo fare il parkour Mamma mia Allora se c'era un coin qui non c'è Ma che si sono scordati di metterlo Oh lo vedo Lo vedo Come ci arrivo io lì? Bella domanda Ok Ok Boom Prima Preso vai Trovato tutte le cose sbloccato il livello bonus 50 morti ho dovuto fare 50 morti Vediamo cos'è questo livello bonus qua al centro tutto colorato bonus bonus che cos'è una stanza dell'asilo sembra Come faccio che devo fare? Vai 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 Non so neanche parlando tipo da dieci morti perché voglio solo superare sotto livello e farla finita qui Questa mappa l'ho finita basta sono a posto pure evidentemente non ce la faccio perché anche se tocco un mezzo millimetro Poi non arrivo Sì 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 67 morti ragazzi per questo video è tutto il mio soltissimo per la visione con lasciare mi piace Sempre questo video sul canale se ancora avete fatto su tutti testa facebook e ovunque voi vogliate io vi saluto ciao a tutti